Il drone ormai non è più una novità, tutti lo conoscono, ma attenzione, le norme che regolano il volo sono molto severe e solo chi ha una licenza lo può condurre. Dal 15 di settembre Enac ha diramato il nuovo regolamento con un sacco di novità, tra cui il giubbotto ad alta visibilità con la dicitura pilota di droni e uno spazio aereo con maggiori dimensioni dove operare. Ma scopriamo tutto questo sul prossimo numero delle azioni.